La sapore che il mondo andrega, un scandian è un gran scandian. Scandian è un gran scandian. Giovedì 23 ottobre alle ore 21 ritroviamoci al corello. Il gruppo Facebook Scandian è un gran scandian vi aspetta per una serata con immagini, personaggi e ricordi che hanno caratterizzato la nostra scandiano. E poi musica anni 70 con il gruppo figure di cartone e disco anni 70-80. La serata di ingresso libero è aperta a tutti gli scandianesi. Sponsor della serata Credito Cooperativo Reggiano. Il ricavato di una sottoscrizione interna con premi offerti da Conad Scandiano sarà devoluto a denti benefici scandianesi. Giovedì 23 ottobre vi aspettiamo al corallo perché...